E questi cosa stanno facendo? Inseguono questo per rapinarlo? Chia, devo intervenire, Giorgio. Devo intervenire a questo. Sì, li stanno correndo dietro perché vogliono miserapinarlo. Non posso far finta di niente. Non posso. Cosa c'è? Dai, sali veloce, sali veloce, muoviti. Cos'è che ho visto? L'ho visto subito, questi figli di puttana. Cos'è che volevano? Non lo so. Volevano rubare? Sì, è un rincorso. L'ho visto subito, Giorgio, l'ho preso io, Giorgio. Oh, guarda me, stai calmo adesso, sei al sicuro, ok? Dove cazzo stavi andando? Sto tornando dal lavoro. E dove vai? Dov'è che abiti? Guarda come via Rembrandt. Ma porco e Dio, guarda. Guarda come via Rembrandt, 67. Guarda sti quattro figli di puttano. Guarda sti quattro figli di puttano. Grazie mille. Oh, sei calmo. Vieni davanti, sediti davanti, vieni qua. Non so come ringrazio. Scendi, vieni davanti perché sono padre di famiglia e ti ho visto che ero in difficoltà. Vieni davanti, vieni davanti.